Tanto è stato fatto, molto altro andava fatto, tantissimo bisogna ancora fare. L'associazione medica, società scientifica Anardi, la più antica d'Italia, compie gli anni e ha ripercorso l'evoluzione della medicina degli ultimi 60 anni, quelli che hanno riguardato proprio la stessa associazione, col comitato scientifico, oggi presieduto dal professor Giovanni Gasbarrini e dal presidente dell'Anardi, Vincenzo Santonicola. Ho organizzato un evento presso Abita 79, dove sono state tra l'altro effettuate le prime giornate mediche dell'associazione. ...per costruire qualcosa di nuovo, occasione per poter riunire i professionisti della salute nel territorio, esattamente, i professionisti della salute. La cuna della salute a mio avviso è una... Gli obiettivi iniziali sono ancora quelli di oggi, con i medici che immaginano la possibilità di dare soluzioni rispetto al campo sanitario, dover dare risposta agli utenti che ne attendono sempre di nuove. Scienza, cultura, socialità messi insieme dai temi sanitari, dalla professionalità di medici di spessore e col passare del tempo, sono stati tanti gli operatori che si sono avvicinati all'associazione Anardi.